Buon pomeriggio e ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV, un nuovo appuntamento di Agorapenale, la rubrica esclusiva di Le Fonti dedicata all'approfondimento di tutte quelle che sono le questioni inerenti al diritto penale d'impresa. Oggi in particolar modo parleremo di reati tributari, un argomento quanto mai vasto, quindi abbiamo scelto un taglio specifico che è quello dell'approfondimento dello strumento della confisca, che come avremo modo di vedere durante il corso di questa puntata ha subito notevoli evoluzioni. Non sarò da sola, do il benvenuto alla nostra ospite Alessandra Mandolesi, penalista di impresa dello studio legale Isola Bella. Ben trovata. Buon pomeriggio, grazie. Avvocato, come dicevo, lo strumento della confisca ha subito delle evoluzioni nel tempo. Quindi prima di approfondire quello che è lo strumento dei giorni nostri, le chiederei innanzitutto di spiegarci cos'è come funziona e appunto quelli che sono i cambiamenti che sono occorsi nel corso del tempo. Certamente. La confisca è un istituto di diritto penale, vuol dire che è uno strumento che il legislatore ha posto nelle mani del giudice penale e in particolare è prevista dall'articolo 240 del codice penale, da sempre diciamo, e è da un punto di vista generale usufruibile diciamo così da tutti i giudici quando addivengono a una condanna a livello facoltativo. Ci sono alcuni casi in cui, dico che cos'è, sostanzialmente consiste nel espropriare il condannato, quindi all'esito dell'accertamento, quindi proprio dopo la condanna, espropriarlo o da beni o da valori, denaro, oppure anche da altre cose tipo gli strumenti che vengono utilizzati per commettere i reati. Ora, tutto questo è generale, ma riconducendolo nell'alveo della materia che ci interessa, dei reati tributari, direi è abbastanza recente la obbligatorietà della confisca che è stata introdotta dal legislatore. Infatti dal 2007, quindi in realtà con la finanziaria 2008, quindi dal 2008 di fatto, il legislatore ha introdotto proprio nella legge di bilancio al comma 143 dell'articolo 1, queste sorprese che sono nascoste dentro le leggi, la obbligatorietà della confisca praticamente quasi per tutti i reati tributari previsti quindi dalla normativa speciale, il decreto legislativo 74-2000. Questo richiamo a una norma esterna rispetto a una legge speciale era piuttosto complesso, quindi nel 2015 il legislatore ha introdotto invece proprio un articolo, l'articolo 12 bis, nell'ambito del decreto legislativo della legge speciale. La confisca è quindi obbligatoria dal 2015 per tutti i reati tributari, tutti quelli previsti dalla normativa speciale e viene sempre disposta dal giudice all'esito del processo in caso di condanna e sarà esecutiva al momento in cui sarà esecutiva la condanna. Cosa si confisca nei reati tributari? Si confisca il profitto del reato, diciamo che nel caso del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, tante volte può essere anche il prezzo perché l'emissione della fattura inesistente non si fa al fine di evadere le proprie imposte ma di aiutare qualcun altro ad evaderle e non si concorre nell'evasione altrui, quindi in realtà che cosa ci guadagna l'emittente? Normalmente ci guadagna una contropartita che può essere di vari tipi, a volte proprio è un prezzo e quindi è quello poi in quel caso specifico, mentre invece in tutti gli altri reati sostanzialmente si confisca il corrispettivo dell'imposta evasa, questo è l'oggetto della confisca. Credo di aver risposto. Sì assolutamente, oggi tra l'altro si parla di confisca per sproporzione, già solo il termine insomma fa capire, a carico della persona fisica, quali sono le criticità? È un altro mondo rispetto alla confisca di cui stavo parlando che ora non sono entrata nel dettaglio, però in quel caso si parla di confisca diretta o per equivalente, ma ciò che contraddistingue i due tipi di confisca che hanno lo stesso nome ma sono proprio cose diverse, è il fatto che mentre la confisca obbligatoria, quella di cui ho parlato poc'anzi, è sostanzialmente una sanzione, è proprio una sanzione, mentre invece la confisca per sproporzione o allargata, che dir si voglia, il codice in realtà la chiama confisca in casi particolari, è l'articolo 240 bis del codice penale introdotto nel 2018, è in realtà una misura di sicurezza ed è assolutamente al di fuori dell'immaginabile spesso, perché si tratta di espropriare anche in questo caso un soggetto condannato per un reato, ma per cui magari ha già subito la confisca per quel reato, facciamo appunto l'ipotesi del reato tributario, un soggetto condannato per frode fiscale a cui è stata applicata quindi la confisca di cui ho parlato prima. Ma se il giudice si avvede che questo soggetto in realtà possiede beni, denari, disponibilità inspiegabili rispetto alla sua dichiarazione dei redditi, che magari il giudice che ha fatto il processo per reati tributari conosce perfettamente, e non sa dare una giustificazione rispetto a questi beni, a questi possibimenti, a queste disponibilità finanziarie che ha, diventa un soggetto molto sospetto. Perché? Perché ha un bollino rosso perché è stato condannato per un reato spia e quindi il reato spia in questo caso è il reato fiscale. E in più ha un altro bollino rosso non indifferente che è il fatto di avere delle grandi disponibilità economiche pur non avendo una dichiarazione dei redditi o magari dei parenti molto ricchi che gli hanno lasciato successioni o donazioni, una vincita milionaria al supernalotto, qualsiasi tipo di giustificazione che possa dare conto del suo possedimento. E che cosa avviene? Che in questo caso il giudice deve, non può, ma deve, qualora valuti che questi elementi effettivamente ci siano, procedere alla confisca della sproporzione. Poi qui c'è tutto un discorso molto tecnico e molto anche legato alla giurisprudenza da fare, perché è chiaro stiamo parlando di una confisca rispetto a un sospetto, in assenza di un procedimento penale, in assenza di una condanna relativa a quei beni, la condanna è relativa ad altri. E quindi stiamo proprio mettendo le mani nel portafoglio di qualcuno che magari all'apparenza può anche apparire sospetto. Però comunque il fine, diciamo, la situazione è un equilibrio tra la tutela della sicurezza pubblica, quindi la misura di sicurezza e quindi la prevenzione, perché è verosimile che questa persona che non sa giustificare i suoi beni, che è già stata condannata, possa disporre di questi beni per commettere altri reati, spesso per commettere reati occorre investire del denaro. Mentre invece dall'altro lato ovviamente c'è sempre i sacri principi della Carta Costituzionale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che invece prevedono ovviamente una presunzione di innocenza, il diritto di difesa, anche il rispetto del diritto ad avere una proprietà privata, a non vedersi appunto sottrarre beni propri e quindi questo equilibrio è un po' proprio nelle mani del giudice. Ci sono stati ovviamente dei passaggi sia alla Corte europea sia alla Corte Costituzionale rispetto ai confini e direi che quello un pochino più evidente da ultimo è stato un confine posto fino a quando io posso sottrargli i beni con la confisca per proporzione, anche dopo che è stato condannato cioè rispetto al reato spia, siccome poi queste confische intervengono in fase di esecuzione quindi anche magari uno viene condannato che ne so nel 2015, poi c'è l'appello, poi c'è la Cassazione, poi c'è l'esecuzione, magari arriviamo al 2020, 2021, in quel periodo magari questa persona ha fatto degli acquisti. Ecco, molto recentemente la Cassazione ha stabilito che il paletto, diciamo, sta proprio nella condanna di primo grado o se è stato condannato in appello, nel senso con riforma della sentenza di primo grado, nella condanna d'appello e prima, prima di aver commesso il reato spia, anche lì, anche la Corte Costituzionale ha stabilito che, sì, magari un po' prima non c'è ovviamente un giorno preciso, un termine preciso, però non si potrà andare a espropriare beni che comunque erano entrati nel patrimonio del soggetto, magari 15 anni prima della commissione del reato spia. Comunque è tutto un discorso molto complesso e obiettivamente anche poco noto, quindi ogni tanto magari richiamare anche l'esistenza di questi istituti è d'obbligo. E adesso si applica appunto anche dal 2020, con la riforma del 2019, è stato introdotto l'articolo 12 ter, in cui appunto prevede non per tutti i reati tributari, ma per diciamo quelli notoriamente più brutti, più cattivi, che direi più tecnicamente quelli fraudolenti. E comunque c'è stata anche l'introduzione di alcune soglie, però comunque non sono soglie particolarmente alte, per cui si parla di 100-200 mila euro di soglia di imposte vada, quindi non particolarmente, non stiamo parlando solo di reati, anche perché ovviamente si rivolgono normalmente le persone fisiche, quindi anche le imposte vase mediamente delle persone fisiche, mediamente, poi non è detto, però mediamente le persone fisiche sono più bassi di quelle delle persone giuridiche. Ecco, avvocato, giustamente le diceva questi reati, questi provvedimenti contro i reati tributari hanno una grandissima ingerenza nel patrimonio delle persone fisiche, giustamente ribadito. Vogliamo ricordarlo, nascevano in realtà per contrastare reati di mafia. Il fatto di averli spostati come strumenti nell'ambito dei reati tributari non ha spostato anche troppo l'asse dal suo punto di vista, dalla prevenzione un po' alla punizione diretta del reato, senza tra l'altro un reato che sia già accertato, come sottolineava in più di un'occasione. Ok, non lo sarà mai. È difficile da dire. Allora, diciamo che queste misure sono violente rispetto al diritto di difesa, alla presunzione di innocenti per loro. Chiaro, magari calate nel contesto in cui sono nate, faccio riferimento all'articolo 12 sexies del 92, direi, che poi è stato l'esempio richiamato anche dall'articolo 240 bis e poi sostanzialmente l'articolo 240 bis richiamato dal 12 terre introdotto nel 2020, ma insomma sì, nascono in quel contesto. È chiaro che anche noi tecnici siamo più abituati a accettare delle espansioni, delle aggressioni maggiori, delle presunzioni anche molto presunte nell'ambito della criminalità organizzata perché sappiamo e conosciamo benissimo tutti quali sono, ahimè, le criticità di questo tipo di reati. Tuttavia ricordo che il 240 bis del Codice Penale ha esteso questo articolo, questa previsione, a tantissimi reati di ogni tipo, tutti gravi obiettivamente, però si spazia veramente dai reati contro la pubblica amministrazione, quelli a sfondo sessuale, quelli di inquinamento, insomma c'è veramente di tutto e adesso anche reati tributari. Quindi sì, senz'altro si va verso una sostanziale punizione ulteriore, direi, più che anticipata. Perché? Adesso qui mi attacco poi al discorso perché effettivamente la punizione anticipata per certi versi c'è, ma la vediamo nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Perché qui poi in realtà ricordiamoci che tutto ciò avviene all'esito lungo di un processo penale in tutte le sue fasi. Quindi è comunque un soggetto che è stato in questi casi qua conosciuto, se si è fatto conoscere, o comunque c'è stato uno spazio di difesa importante, chiaro non ai fini della confisca allargata, però il giudice conosce questa persona e i vari giudici l'hanno studiata, hanno visto i suoi comportamenti, i suoi possedimenti, i suoi contatti, eccetera. E quindi in qualche modo, ecco, diciamo che occorre fiducia che giustamente bisogna avere nei confronti dei giudici perché calibrino questa misura nell'interesse di tutti e non vi siano errori di valutazione. Mentre invece nelle misure di prevenzione bisogna ricordare che questo reato spia non necessariamente c'è, nel senso che è un po' più morbida la possibilità di applicare la misura di prevenzione, che ovviamente ancora c'è, è prevista dal codice antimafia e quindi ci sono degli spazi diversi. Ecco, qui stiamo parlando di un soggetto che comunque ha subito tutto un processo penale e proprio ancorando a questa condanna, a questo accertamento giudiziale si prosegue, mentre invece nell'altro caso non c'è questo ancoraggio, diciamo, a un accertamento giudiziale definitivo di condanna. Ecco, è un po' più leggera la possibilità di applicare la confisca per sproporzione. Avvocato, poc'anzi lei accennava al sequestro preventivo finalizzato alla confisca. vuole dire in cosa consiste, ma soprattutto entro quali limiti il giudice può disporlo nell'ambito di un procedimento? Ecco, questa secondo me è la vera arma forte in mano all'autorità giudiziaria penale. È un'arma che usano tantissimo, soprattutto negli ultimi anni, vabbè, chiaramente non è da tantissimi anni, diciamo, però negli ultimi anni è quasi un'arma automatica, mi verrebbe da dire, intanto perché il sequestro finalizzato alla confisca, che poi è un sequestro preventivo previsto dall'articolo 321,2 del codice di procedura penale, non richiede per giurisprudenza costante, anzi non chiede per legge proprio, i gravi indizi di colpevolezza che siamo soliti, o almeno noi siamo soliti, esigere quando viene applicata una misura cautelare personale. Questa è una misura cautelare reale, cioè riferita ai beni, al denaro, alle cose. Ebbene, dal mio punto di vista per l'esperienza che io ho, direi che sì, è una misura reale, ma ha un tale impatto nella vita reale delle persone, che io la considero a tecnicamente e assolutamente al di fuori del codice, però personalmente la considero una misura personale, perché avviene in questo modo. Il pubblico ministero può disporre anche d'urgenza il sequestro preventivo, facendoselo poi convalidare successivamente dal GIP. A dire il vero, addirittura la polizia giudiziaria, guardia di finanza normalmente, può disporre in autonomia questo sequestro preventivo, entro 48 ore se lo deve fare autorizzare dal pubblico ministero e nelle successive 48 ore il pubblico ministero deve mandarlo al GIP, il quale poi in dieci giorni deciderà. Ecco, sembra molto veloce. In realtà in tutto questo arco di tempo l'indagato, che probabilmente non sa neanche di essere indagato, non può più usare i conti correnti, non funzionano le carte di credito, non capisce cosa sta succedendo perché nessuno gli sta dicendo niente, cioè non viene informato, notificato, avvisato del fatto che è stato eseguito un sequestro e per quale ragione è stato eseguito. Quindi non può neanche azionare poi una risposta legale, chiaramente. Se ha un'idea può andare a parlare col pubblico ministero se già sa di essere indagato, magari ci va il suo avvocato, forse è meglio in questi casi, è sempre meglio. Però è proprio un'idea e comunque anche qualora, magari avendo una ricostruzione, sapendo di che cosa si tratta o se si sapeva già dell'esistenza del procedimento penale, anche parlando col pubblico ministero, ma anche ottenendo una copia del decreto d'urgenza, non si può azionare immediatamente la difesa, che poi è sostanzialmente distanza al tribunale del riesame. Perché per quello occorre attendere la convalida e quindi il successivo decreto di sequestro che deve mettere il giudice, il giudice delle indagini preliminari, se siamo come in questi casi siamo nella fase delle indagini. E quindi tutto ciò che si può fare magari è interloquire con il pubblico ministero. Ora dico questo perché spesso succede che magari la persona fisica che subisce il sequestro può essere che lo subisca come contribuente di se stesso, quindi sulla base della propria dichiarazione dei redditi, o può darsi che lo subisca anche, perché questo avviene frequentemente, in quanto legale rappresentante di un'azienda e quindi il contribuente in realtà è l'azienda. Questo rileva spesso perché le aziende, come dicevo prima, hanno normalmente delle dichiarazioni dei redditi più alte delle persone fisiche, quindi le imposte vase che poi vengono richieste, se non c'è liquidità nell'azienda direttamente alla persona fisica, spesso esuberano anche di gran lunga il patrimonio totale della persona fisica, casa, macchina, conti correnti, investimenti, qualunque cosa uno abbia, anche se è magari un dirigente di azienda, però è richiesto magari di far fronte a un debito fiscale di una SPA che magari fattura diversi milioni di euro, svanisce, quindi magari uno che si sente anche benestante, che magari ha un milione di patrimonio, due milioni di patrimonio, scompaiono immediatamente, scompaiono a lungo, per lungo tempo. Ora è chiaro che si potrà pensare, però d'altra parte se lo fanno evidentemente avranno dei ragioni, se avranno delle ragioni questo normalmente lo si vede all'esito del processo, invece tutto questo avviene all'inizio del processo, anzi prima ancora che si stabilisca se un processo si farà o non si farà. Questo dicevo che è un'arma molto potente che ha la Procura della Repubblica, assolutamente poi è un'arma che in realtà hanno i giudici, perché poi c'è il Tribunale del Riesame e c'è la Cassazione, non è infrequente che venga disposto il dissequestro poi in fase di Cassazione, per varie ragioni, per carità nasce un procedimento cautelare che ha un suo sviluppo chiaramente molto più veloce del procedimento di accertamento penale, però comunque per quanto veloce sia, di solito prima di 7, 8, 9 mesi, un anno, insomma non si conclude, quindi obiettivamente è, come dicevo, un discreto incentivo che la magistratura penale ha per sollecitare, invitare diciamo il contribuente a provvedere a pagare il debito tributario nel procedimento tributario che dovrebbe essere lì a fianco o di lì a poco dovrebbe manifestarsi. Ecco, proprio qui infatti vorrei farle un'ultima domanda, proprio perché come diceva ci sono poi due processi che viaggiano in parallelo. Questo fatto di avere da un lato il procedimento penale e dall'altro quello amministrativo, fiscale, non può portare anche la compromissione un po' al venir meno del principio del nebissinidem? Ebbè, questo è un argomento certamente molto discusso, direi soprattutto negli ultimi 6-7 anni. sia originariamente direi in ambito europeo, sì per carità era stata anche rappresentata, diciamo si era cercato di rappresentare questo problema, perché poi in realtà è un problema che noi avvocati poi ci troviamo ad affrontare concretamente, cioè quando tu al di là dei principi giuridici, tu hai un soggetto che subisce due procedimenti assolutamente per lo stesso fatto, la differenza normalmente, oltre al giudice ovviamente, che da un lato c'è un giudice tecnico molto competente in materia tributaria, specifico per la materia tributaria, dall'altra parte invece abbiamo un giudice non tecnico, non competente specificamente in materia tributaria, se non per l'esperienza che può avere avuto, però non ha una preparazione specifica in materia tributaria, e che quindi normalmente dà un po' un'occhiata a quello che fa l'altro giudice. Questo è sempre stato un po' abbastanza normale e giusto tutto sommato, ma devo dire che da un lato vige nel nostro ordinamento faccio un passo indietro la indipendenza dei due procedimenti, quindi non solo non è vietato fare due procedimenti sullo stesso fatto nei confronti della stessa persona, ma addirittura è previsto che l'uno non possa sospendere l'altro, quindi entrambi vanno avanti per la loro strada e sembrerà strano, ma spesso arrivano anche a conclusioni diverse, per cui poi bisogna spiegare al contribuente imputato che sì, magari l'autorità giudiziaria tributaria ha ritenuto che lui non avesse un debito tributario, ma l'autorità giudiziaria penale invece ha ritenuto di condannarlo. E' qui che entra un po' in ballo quella difficoltà di cui parlavo, perché soprattutto ultimamente c'è proprio una totale indifferenza, mi verrebbe da dire, un po' da parte del magistrato penale rispetto a quello tributario e forse viceversa, ma lì sono meno competente. E il nebis in idem è un concreto pericolo, a mio avviso si sta cercando, poi per carità la Corte Costituzionale ha dato anche piuttosto recentemente diverse indicazioni per evitare sulla scorta della Corte di Giustizia Europea, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla scorta di indicazioni che venivano da lì, ha sostanzialmente escluso che proprio in riguardo ai reati tributari si possa parlare di nebis in idem, quindi di violazione del divieto di nebis in idem, ma non a prescindere a priori, solo in presenza di determinate situazioni. E quindi, richiamando quelle che aveva nel 2016 espresso la CEDU in riferimento al caso A e B contro Norvegia, si ritiene che si possa procedere in due, in due sedi diverse, confini diversi, nei confronti della stessa persona, ma ci dovranno essere delle cose in comune, cioè appunto il perseguimento di finalità diverse, quindi diciamo che l'illecito amministrativo normalmente tende a fare cassa e quindi a recuperare il denaro e a disincentivare l'evasione fiscale, mentre si attribuisce al procedimento penale, in teoria almeno, una finalità tipicamente punitiva o social preventiva, se vogliamo, anche dell'ordinamento penale. Però è proprio qui che magari, ora mi fermo su questo primo punto, che obiettivamente si lascia un po' perplessi, perché torniamo al sequestro di prima, se è il giudice amministrativo quello che deve fare cassa, per quale ragione deve essere la Procura della Repubblica prima ancora che inizi tutto a puntare sostanzialmente un'arma fumante sulla tempia del contribuente e prendergli fisicamente i soldi. Non mi sembra un obiettivo tipicamente, diciamo, punitivo, ma quella dovrebbe venire alla fine, la punizione, prima si accerta, esatto, quindi sono argomenti abbastanza ecco, che poi in realtà sì, sembra un po' un unico processo effettivamente, perché l'Agenzia delle Entrate chiede il debito tributario, il Pubblico Ministero glielo offre e glielo mette in cassaforte, dopodiché poi con gli anni si vedrà che cosa succede, intanto durante questi anni l'imputato contribuente non ha più il suo patrimonio e gli altri elementi sono una proporzione della pena, quindi va bene anche una pena detentiva da un lato, la pena amministrativa dall'altro, la confisca dall'altra ancora, secondo me anche sotto il profilo della pena bisognerà, cioè sono principi che effettivamente sono intoccabili, espressi per carità dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte Costituzionale e se ne deve tener conto, però bisogna noi operatori del diritto verificare che effettivamente questi principi abbiano poi nei singoli casi concreti una concreta applicazione, perché se no effettivamente si rischia che ci sia una doppia condanna. Che dire, è proprio quello che anche per principio non potrebbe assolutamente esserci, qui il cerchio si chiude, io ringrazio l'avvocato Alessandra Mandolesi dello studio legale Isola Bella, ci ha aiutato in una materia davvero complessa e in maniera chiarissima, quindi ci auguriamo di poterla avere presto nuovamente nostra ospite, grazie ancora. Grazie, grazie mille dell'invito, buona serata. E grazie naturalmente ai telespettatori di Le Fonti TV, buona serata e al prossimo appuntamento di Agorapenade.